Alle 9.30 di questa mattina una densa nube di fumo si è alzata dalle rive del fiume Tavollo mostrandosi nitidamente ai cittadini di Cattolica e a quelli delle vicine Gabicce Mare, Gradara e Tavuglia. Ad andare in fiamme è stato uno yacht all'interno dell'azienda di industria nautica Ferretti collocata sul porto canale di Cattolica a pochi metri dal ponte di collegamento con Gabicce Mare sul fiume Tavollo. Inermi, decine di operai che non hanno potuto far nulla per contenere la violenza delle fiamme accanitesi su un'imbarcazione di 30 metri del valore stimato di 10 milioni di euro praticamente ultimata e pronta alla consegna. Cinque squadre dei vigili del fuoco si sono adoperati in complesse operazioni di spegnimento e messa in sicurezza durate ore. Le fiamme hanno danneggiato anche altri due yacht in allestimento e diverso materiale dei padiglioni del gruppo Ferretti, industria leader mondiale nella progettazione costruzione e commercializzazione di yacht e navi da di porto. Sul posto anche i carabinieri di Cattolica e Riccione che stanno indagando sulle cause di un rogo che, secondo le prime valutazioni, parrebbe innescato da un corto circuito elettrico che si è propagato sui natanti costruiti con componenti in legno e vetro resina. Non ci sono stati feriti ma il personale del 118 ha visitato diversi operai per monitorarne l'esposizione all'inalazione da fumo.